Noi non siamo la cosa rosa che è nata stamattina, noi crediamo che questi signori, che sono nostri nemici, nemici, portino via la parte sana di questa società verso illusioni riformiste che non esistono più. Tutti questi signori che avete visto, che fanno parte del circo di D'Alema, Bersani, perché poi è questa la storia, ce l'hanno con Renzi non per un motivo ideale, non per un motivo programmatico, ce l'hanno con Renzi perché vorrebbero essere loro al posto di Renzi a fare quelle cose.